Il comune di Castellabate ospita quest'anno nel Salone d'Onore del Castello dell'Abbate il premio internazionale di poesia itinerante dal terreno all'Oionio con il tema Ulisse ed il viaggio degli inganni e della speranza. Un premio promosso dalla Fondazione Roberto Farina Ollus di Roseto Capo Spulico, giunto alla quinta edizione dedicata ad Omero, poeta sovrano, un evento culturale d'eccezione che si sposta da una parte all'altra della penisola italica e che quest'anno si terrà nelle sale espositive poste al primo piano del Castello dell'Abbate il 16 e il 17 marzo. Nello specifico sabato 16 marzo alle ore 17 si svolgerà la cerimonia di premiazione dell'evento poetico accompagnato da intermezzi musicali di arpa e di lira, mentre domenica 17 marzo dalle ore 10 alle ore 12 si potrà visitare gratuitamente il Museo Malacologico della Fondazione che banta una vasta collezione di conchiglie provenienti da tutti i mari del mondo. Saranno presenti alla cerimonia oltre agli autori premiati il presidente del premio Giovanni Moulet, il presidente della Fondazione Antonio Farina e il presidente della giuria Dante Mafia, candidato al premio Nobel per la letteratura. Siamo lieti di essere partner di un'iniziativa culturale di tale spessore, dichiara l'assessore alla cultura Luisa Maiuri, un premio che ad ogni tappa suggella nuove aperture culturali in giro per l'Italia e chi per questa edizione decide di parlare di Ulisse nella terra mitologica della sirena Leucosia alla presenza di autori prestigiosi.